L'Eatow Games lo avete chiesto in tanti, in tantissimi, ed ecco, non appena avuto un po' di tempo per farlo, vi faccio il video per gli eventi nazionali. Ancora di più di altre volte vi chiedo un supporto, perché davvero sono a time limit anche abbastanza sorpassato. Supportate questo canale, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, fate acquisti su Amazon passando per link di affiliazione presente all'inizio della descrizione del video, non vi costa un centesimo di più rispetto che a fare gli acquisti direttamente in home o in app, vanno bene a qualsiasi acquisto. Se volete supportarci ancora di più potete abbonarvi per supportarci in maniera continuativa, oppure una tantum con un'offerta, un super grazie, trovate il testino. Allora, devo subito partire da una correzione, scusatemi mi sono sbagliato questa mattina, ho detto una cosa errata sul weekend showdown, ho detto ma vabbè non è tanto una cosa che ci interessa, così va 10.000 GP che ci facciamo, eccetera eccetera. In realtà invece è una cosa importante perché è collegato, se vi ricordate, a quell'evento famoso, l'International Cup eccetera, che ci regalerà la fine a seconda, c'è un monte premi di un miliardo di monete. Con queste monete divise poi per nazione a seconda del loro arrivo in classifica. Ringrazio tantissimo Alessandro Silvotti che me lo ha ricordato, perché io mi ero completamente scordato di questa cosa, poi non solo lui. Me lo ha ricordato, grazie Alessandro dunque. Questo evento quindi, a differenza di quello che si era capito all'inizio, che riguardava solo i giocatori di livello 1, in realtà riguarderà tutti, tutti ci possiamo giocare. Poi verranno presi in considerazione i migliori risultati dei migliori 50 giocatori. Quindi magari uno è anche in divisione 3, ha un weekend fortunato e ci si prova, ci si prova. Quindi possiamo giocare tutti questo weekend showdown ed è importante per la classifica finale per nazionalità. Ora, come funziona? Dovete scegliere la nazionale, che può essere anche un'altra nazionale in questo caso, l'importante è la squadra che avete scelto in passato. Andiamo a vedere lo schema di gioco, come vedete, ve lo faccio rivedere in basso a destra, vedete c'è il punto esclamativo, ci dice che le condizioni non sono soddisfatte. Perché? Perché ovviamente in squadra non ci sono tutti italiani, io ho scelto l'Italia. Però è importante, con il quadrato, se avete problemi a vedere quali giocatori vanno bene e quali no, usate il quadrato, usate il quadrato su PlayStation, su Xbox o su PC la X, a seconda così. Vedete, qui c'è il club, la valutazione, lo stile di gioco squadra e qui le bandiere. Come vedete, qui l'unico giocatore che va bene è Barella, tra i sostituti va bene Donnarumma e va bene Tonali. E allora andiamo subito a modificare la squadra. Allora, andiamo in schema di gioco, ovviamente questo l'ho preparato prima di registrare, vado in schema di gioco, vado in squadra, in elenco schema di gioco e vado su schema 3. Ecco qua, qui ci sono tutti italiani, non ne avevo abbastanza, sono andato nella cosa dei GP, ho cercato i giocatori italiani e li ho filtrati in base al prezzo, partendo dai più bassi e poi verso l'alto. Ci sono tutti i giocatori del Suttirol, ovvero Koffler, Arraser, Dragon, Sibilano, tutti da 3.000 e ho preso quelli più bassi appunto perché poi c'è il limite delle squadre. A questo punto io vado a utilizzare quindi questo schema di gioco, vado negli eventi, tutti i giocatori italiani, eventi, vado a vedere e scopro che, eccoci qua, adesso ci sono tutti i giocatori italiani che hanno la V. Quindi va bene, potrei partire, lasciamo perdere dove li ho messi e tutto quanto, adesso vi spiego perché c'è questa formazione orrenda. Come vedete, tutti i V spuntata, sono tutti italiani e quindi vanno bene. Ho scelto Italia all'inizio, quando mi è stato chiesto di scegliere la nazionale, la posso anche cambiare successivamente e quindi il weekend showdown sono a posto. Non sono a posto per l'International Cup Under 2100, ve lo faccio vedere, schema di gioco, anche se qui sotto c'è scritto Forza complessiva 2072, ho cercato di fare i magheggi mettendo Pessina Portieri, Insigne Terzino Destro, Chiesa Difensore Centrale, Meret 68. Tra l'altro, cosa divertente ragazzi, ah l'ho tolto Donnarumma, che Donnarumma è da 76, clamoroso. Va bene, Koffler 40, Dragon 40, Arraser 40, Forza complessiva 2072, non basta perché la Forza base è 2341. Non la si fa Konami, non la si fa. Quindi adesso io non me lo metto a fare, ma dovrei fare che la squadra base sia sotto al 2100 come Forza base, non come Forza complessiva. Io qui sono riuscito a scendere di 300 punti perché si inizia a mettere Pessina qui, si inizia a mettere Di Lorenzo qui, si inizia a mettere Darmian qui, si inizia a mettere Chiesa qui. E come vedete sono già arrivati a 2219, ma tanto non li frego, perché come potete vedere l'importante è l'11 iniziale, però ecco non si riesce a fregare. Bisogna scendere sotto i 2100 come Forza base, non come Forza complessiva, perché purtroppo altrimenti, mettiamo, ecco, 2072, Forza complessiva, lo schema di gioco, niente, non c'è niente da fare, non va bene. Se invece vado sull'evento International Cup, qui vedrete che me l'accetta tranquillamente perché ho scelto l'Italia, eccoli qua, e vanno tutti bene. Qui non ci sono limiti, così cosa dovrei fare? Dovrei andare a prendere altri giocatori scarsi e metterlo in squadra. Credo, credo, non ne sono sicuro che sia importante l'11 iniziale, non i sostituti. Non ho fatto questa prova, non ho avuto il tempo. Però ragazzi, le cose importanti sono due sostanzialmente. Uno, usare il quadrato per vedere se i giocatori sono validi per le sfide. Ecco qui, vedete, sono tutti con la V spuntata, con la spunta, e quindi questi vanno tutti bene. Bene, a posto, qui ci siamo. Per l'evento, per l'evento, invece, Under 2100, l'importante ovviamente è che voi, questo, il quadrato. Poi che ovviamente i giocatori siano una nazionale che avete scelto all'inizio, se no la potete cambiare. Ad esempio, se io adesso vado su Impostazioni, squadra scelta, scelgo la Francia, modifico, ora partecipi come Francia. Ovviamente adesso tutti i giocatori non sono, vedete, non c'è neppure una spunta. Se vado su un Bappé, eccolo qui che viene la spunta. Quindi, coerenza tra squadra scelta e giocatori. E poi, per quanto riguarda l'Under 2100, ve l'ho detto, non basta cercare il magheggio e abbassare il livello, bisogna per forza di cosa che la forza base della squadra sia sotto i 2100. Non c'è niente da fare. Ecco, vediamo un attimo, se ad esempio metto Riserve, vado a prendere 80 Bail e lo vado a sostituire con Pellegrini, ah no, me lo cala, me lo cala il livello. Quindi sono importanti anche le riserve. Anche le riserve, potete utilizzare la forza base, vediamo se qui, eh sì, 2339, quindi contano anche le riserve per abbassarlo. Allora, qui stiamo a 2339, ora vado a sostituire tonali con Dragon, sostituti tonali, 2283. Sì, sì, quindi la forza base riguarda tutti i giocatori, ragazzi, quindi devono essere della stessa nazionalità, Italia se scegliete Italia, Serbia se scegliete Serbia, Franza se scegliete Francia, e nell'insieme dei giocatori non dovete superare i 2100. È una rottura di scatole perché c'è a prendere un sacco di giocatori scarsi, magari, di riserva. Però l'importante è quel dato che vedete lì in alto a destra, 2283. Ora, ragazzi, fatemi fare una cosa che sennò qui succede un patatrack, se magari vado a giocare il campionato oggi pomeriggio e non cambio tutto. La mia squadra, mi sono sbagliato, dovevo andare su schema di gioco, eccoci. Allora, squadra, elenco schema di gioco e torniamo allo schema 2 che è meglio. Ecco qui. Ragazzi, spero che sia tutto chiaro adesso. Adesso è davvero tutto chiaro, sia per il limite della forza dei giocatori. Quindi contano i titolari e le riserve e non potete fare i magheggi che Konami non ve li fa abbassare. Dovete scegliere la nazionale, coerenza con le squadre nazionali. Se avete qualche dubbio se i giocatori vadano bene per la Francia, quadrato o X su Xbox e potete avere tutte le valutazioni del caso che vi dirà il gioco. Spero a questo punto di essere stato davvero chiaro. Se avete bisogno di altre spiegazioni, adesso anche io avevo bisogno di vedere tutto, non avevo avuto il tempo fino a questo momento. Ho visto tutto, ho chiaro tutto e con il video penso che tutti i dubbi siano stati tolti. Se ne avete ancora, commentate e cercherò di rispondervi appena mi è possibile. Vi auguro ancora una buona giornata. Vi ricordo, iscrizioni, abbonamenti, super grazie, acquisti su Amazon passando per il link e affiliazione. Stasera con il campionato ci cercheremo di bissare la vittoria di ieri. Grazie e al prossimo video. Ciao!